Presso la sede del Palazzo di Governo, alla presenza del prefetto della BAT, Clara Minerva, è stato sottoscritto l'atto di compravendita tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Barletta, vente ad oggetto l'area comunale dell'ex mattatoio di Barletta, dove nascerà il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia BAT. L'atto è stato siglato dal direttore regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, Vincenzo Capobianco, dal dirigente del settore Affari Generali e Servizi Istituzionali del Comune di Barletta, Rosa di Palma, alla presenza del notaio Giuseppe Catapano, che ha arrogato l'atto, del sindaco di Barletta Pasquale Cascella, dell'assessore alle politiche economiche e finanziarie, del Comune Vittorio Pansini e del comandante della Polizia Municipale Savino Filannino. Il prefetto Minerva ha espresso soddisfazione per questo ulteriore importante tassello in vista della realizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco della provincia, che si inserisce nell'ambito del programma di completamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio della provincia BAT. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Comitato Permanente per la Protezione Civile Ruggero Mennea, commentando come, ma è come in questo momento particolare in piena emergenza incendi, assuma una rilevanza strategica l'acquisizione dei beni che poi serviranno a ospitare la Caserma dei Vigili del Fuoco della provincia. Si tratta di una struttura di notevole importanza, perché dovrà diventare punto di riferimento logistico di questa zona della Puglia, dice Mennea, e dovrà essere dotata di nuove strumentazioni per consentire la prevenzione e la formazione specifica. Il costo di questa prima operazione ammonta a 1.645.000 euro, suddiviso in due tranche, di cui la prima da 960.000 euro. La procedura prevede due step, il primo con la sottoscrizione del presente atto e la formalizzazione dell'approvazione da parte degli uffici demaniali, e il secondo con la consegna entro il 31 dicembre delle aree attualmente occupate dall'ASL. Ora è stata completata la prima fase, ha detto il consigliere Mennea, che qualche mese fa aveva partecipato a Roma a un incontro per la definizione del piano di trasformazione dell'ex mattatoio in Caserma dei Vigili del Fuoco. Il Governo nazionale, in particolare il sottosegretario all'interno Gian Pirobocci, potrà freggiarsi di aver realizzato nel territorio del sud, ha concluso Mennea, un'opera strategica per la difesa della vegetazione che rende straordinaria la Puglia.